Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti tappeti annodati a video. Molto bello e moquette lori buff trene. I tappeti lori buff sono una versione di qualità superiore dei tappeti gabbe molto popolare. Ogni tappeto è annodato a mano lori buff è unico. Tutti i tappeti fatti a mano può tolleranze del 2-3 anno. Pezzo unico di artigianato. Materiale. Cento lana bergine. Tipo di elaborazione, annodato a mano. Nodi per metro quadrato. 320.000. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.